Dopo le polemiche, dopo le dichiarazioni a mezzo stampa e i veleni degli ultimi giorni si aprono primi spiragli tra la maggioranza che sostiene il governo regionale e il presidente Crocetta. Prima si è tenuto un incontro all'Ars dei dirigenti del PD, poi il segretario Giuseppe Lupo, il capogruppo Baldo Gucciardi e Antonello Cracolici hanno incontrato a Palazzo d'Orleans il governatore. Durante il faccia a faccia Crocetta avrebbe dato il proprio consenso al rimpasso e si sarebbe detto disponibile a rivedere uno dei nodi principali, ovvero l'ingresso di esponenti prettamente politici nel governo, fino ad ora composto da figure tecniche anche se designate dai partiti. Tra i principali nomi dei possibili nuovi assessori ci sono quelli del segretario del PD Giuseppe Lupo, del deputato regionale Antonello Cracolici e di uno erenziano, anche se il governatore ha chiesto come condizione che non venga stravolta del tutto la fisionomia tecnica della Giunta. Una linea, quella del presidente della regione, sostenuta anche dagli alleati dell'Udc. Lunedì prossimo si terrà la direzione regionale del Partito Democratico e in un primo momento l'ipotesi era quella che venisse messo in discussione addirittura lo stesso appoggio al governo regionale. L'incontro di ieri sera però dovrebbe aver allontanato del tutto questa ipotesi.